Il Palacus di Vialtofonte 80 ha ospitato la riunione preliminare con i rappresentanti degli Sprar di appartenenza dei ragazzi che parteciperanno al progetto europeo Centred by Sport. Il Project Manager Coordinator ESA Program e Centred by Sport Rosario Genchi, insieme ai presenti, ha tracciato le linee guida del programma, che staff e giovani svolgeranno insieme durante gli otto mesi del progetto. Alla presenza di Lucia Pollina, delegata del Consiglio Direttivo CUS Palermo ai progetti europei, il suo intervento è stato affiancato da quello del Project Manager Musa Kirkar e Salvatore Di Noto, segretario generale CUS Palermo. A seguire i referenti per il progetto di atletica leggera, badminton, calciacinque, cricket e pallavolo, le cinque discipline che verranno studiate prima e praticate poi dai ragazzi degli oltre dieci centri d'accoglienza di Palermo, hanno brevemente illustrato le caratteristiche del proprio sport di riferimento e presentato sinteticamente il percorso da seguire. Questa riunione ha gettato le basi per lo start, fissato per l'inizio del 2017, un anno ricchissimo di appuntamenti, dei grandi progetti europei sino alle celebrazioni per i 70 anni del CUS Palermo.